Bending Spaces è un documentario dedicato a un artista, un fotografo, Georges Rousse, un artista francese laureato in medicina. Vedremo insieme se forse questo suo percorso universitario in qualche maniera l'ha segnato anche nella sua pratica. Il film che vedrete è il risultato di un periodo di residenza, quindi un periodo in cui l'artista ha traslocato, si è trasferito per un progetto in North Carolina, a Durham per essere precisi. Durante questo periodo, questo tempo di residenza, l'artista solitamente è chiamato ad analizzare quello che è l'ambiente circostante e a produrre una nuova opera in stretto legame con il contesto. In generale, Georges Rousse dedica sempre la sua attenzione a edifici in stato di abbandono, in stato di degrado, prossimi alla demolizione. In North Carolina, cos'è che fa Georges Rousse? Georges Rousse decide di lavorare in un'ex manifattura tabacchi, un po' come quella che abbiamo qui a Firenze. Ed è la manifattura tabacchi che fino al 1984 ha prodotto sigarette per il noto marchio Chesterfield. Come vedremo, Georges Rousse legge lo spazio architettonico un po' come se stesse osservando l'interno di un corpo umano e riesce a dargli veramente nuova vita. Ogni progetto fa sì che intere comunità vengano coinvolte, e quindi il pubblico non è soltanto più solo chi osserva, ma è anche chi realizza le opere. E in questo caso, come sentiremo un po' dalle testimonianze di tutti i collaboratori di questo artista, tutti vivono con grande ansia e senso di responsabilità a questa realizzazione. In tanti utilizzano anche delle metafore ludiche. Si dice per esempio che ogni azione che un volontario, un collaboratore realizza all'interno dello spazio espositivo, spesso si tratta di tracciare delle linee di vernice, è un po' come effettuare una mossa durante una partita di scacchi. Quando si fa una mossa negli scacchi bisogna sempre pensare appunto a quello che noi vogliamo fare nell'avanzamento, ma anche allo stesso tempo quella che può essere la risposta nella mossa del nostro avversario, e di conseguenza quello che noi potremmo fare in risposta a quello che l'avversario compie. Questo fa sì, quindi per tornare alla realtà e lasciare la metafora, che ogni segno che viene tracciato nello spazio espositivo possa avere una ripercussione nel risultato finale dell'opera di George Rousse. Perché mentre tutti i suoi collaboratori, questa comunità che si viene a creare, inizia a dipingere lo spazio espositivo, dandogli veramente nuova linfa, l'artista rimane dietro la macchina da presa, dietro la macchina fotografica, a fare un po' il direttore d'orchestra, per cercare di capire attraverso quale angolazione, attraverso quale linee è possibile creare la composizione che lui ha in testa. E quella composizione restituisce un nuovo ambiente. Se voi guardate uno spazio espositivo segnato, dipinto da il gruppo di lavoro di George Rousse, vedrete che è molto diverso rispetto a quello che è il risultato tramite la fotografia. Perché la fotografia ha questo potere di cristallizzare un momento e renderlo quasi surreale. E questo è quello che fa George Rousse. Se volete vedere un esempio simile a livello di pratica rispetto a quello che realizza solitamente George Rousse, vi invito appunto ad andare alla Manifattura Tabacchi, perché una delle artiste che è stata in residenza negli ultimi anni, una giovane artista pugliese, essendo stata assistente a una delle collaboratrici appunto di George Rousse in occasione di uno dei suoi progetti, ha realizzato, un po' come se avesse raccolto l'eredità di questo grande maestro, un'opera che rilegge lo spazio e che può essere fruita soltanto da uno specifico punto di vista. Lasciandovi quindi con questo suggerimento, sperando che presto si possa tornare a visitare le mostre e gli spazi espositivi, vi auguro una buona visione. Grazie.